Un bel posticino Decima parte Cosa mi avete fatto, famiglia di debosciati? Ruggii con tutto il fiato che avevo in corpo. Pazzo assassino, perché invece di sfregiarmi non mi piantavi un maceta nel petto? Come hai fatto con il tuo amico Wes? Uccidimi e farlo in fretta, sadico figlio di puttana! Temevo che fossi davvero entrato nella villa, come sosteneva Meg. Mi risposa Ed, seriamente dispiaciuto. Ma ti sbagli. Io non ho mai ucciso Wes. E questo perché, in un certo senso, questa dama sono io. A quelle parole il sangue smise di scorrermi nelle vene, giacché anche il cuore si era fermato di botto. Il signor Wes, di cui mi aveva parlato l'anziana Sander, era in realtà Ed. Ma anche così, le cose non sembravano avere un senso, oltre che niente avrebbe mai potuto giustificare l'avermi tagliato un braccio. Provavo ribrezzo per il viso di Ed, o come diavolo si chiamasse quel malefico dissennato che mi sedeva dinnanzi. Odiavo ogni pelo della sua barba, e avrei provato un'immensa gioia nel poterli litigare via uno a uno con una pinzetta, solo per il gusto di sentirlo gemere centinaia di volte. Prima di conoscerlo, io non ero neppure certo di aver mai veramente odiato qualcuno. Sì, voi tutti credete di conoscere l'odio, ma vi sbagliate. L'odio e l'amore sono fratelli, e solo e veramente li si incontra lungo il proprio cammino esistenziale. Il male, soprattutto quando lo si fa senza motivo, merita sempre il massimo della pena. Ma io, con un solo braccio, e fresco di un'operazione invasiva, non potevo certo permettermi di amministrare la giustizia come sarebbe stato giusto fare, ovvero devastando la testa del mio interlocutore al pari di come avevo fatto con quella di Deneb. Tu mi odi, lo comprendo. Una parte di te mi detesta per quello che crede io le abbia fatto, mentre l'altra parte, e quella che ho sbloccato dalle sue catene di fumo, sono certo, mi stimi Ancoria. Ci sono due realtà in te adesso. Una delle due è Nathan, il povero ragazzo di Trampton terrorizzato dai rapporti umani. L'altra, invece, è opera del mio lavoro su di te, mio figlio Tom. Ma tu sei pazzo, lo sai, vero? Non c'è un briciolo di verità in quel che dici. Thomas Sander era figlio di Edward, non tuo. La tua bella famiglia non è altro che una cozzaglia di malati di mente che ha scelto di occupare abusivamente un ospedale di roccato. Ecco che cosa siete. Ed, a quelle parole dure, si piegò leggermente in avanti prendendo da terra la foto incorniciata che avevo visto a Villa Sander. Conoscevo i volti di quell'immagine, solo che ne avevo invertito i nomi. Voglio raccontarti una storia, e per la fine di essa tu dovrai dirmi chi sei. Se sarei rimasto Nathan Day da Trampton, io avrò fallito. Se invece ammetterai di essere mio figlio Tom, allora vuol dire che i miei sforzi degli ultimi vent'anni sono stati ripagati. Vedi questa foto? Penso che la conosci già. L'avrai vista quando ti sei introdotto nella mia vecchia villa di famiglia. Però non hai compreso chi fossero gli uomini immortalati, o perlomeno quale fosse il nome di battesimo attribuito ad ognuno dei due simulacri di carne. Per spiegarti bene la storia, mi sforzerò di parlare di me come se fossi ancora West Adama, altrimenti dubito che ci capiresti un granché. Io, Weasley Earle Adama, nacque a Nerville quasi 60 anni fa, in una situazione familiare non molto dissimile dalla tua. Non credere che la vita fosse più facile allora, anzi, esistono molte scuole di pensiero su come e quando si sviluppi una patologia mentale, ma la verità è che io, fin dalla prima infanzia, mostrei chiari sintomi di bipolarismo. Dopo le prime inutili sedute da alcuni specialisti, un giovane psichiatra appena laureato mi prese in simpatia. Lui non parlava come i suoi colleghi, era più riflessivo e ispirava fiducia. Non ci levavamo moltissimi anni e questo servì a farci legare più come amici che non come medico e paziente. Lui aveva un piccolo studio a Nerville, ma non viveva lì in città. Abitava in un posto che non avevo mai sentito nominare, Tear Lake City, un paesino sperduto su Monte Wyden. Viveva lì insieme a sua mamma, rimasta vedova, alla sua compagna Megan e al piccolo Thomas, suo figlio appena nato. Come ormai avrai certamente capito, quel giovane medico era Edward Sender. Non passò molto tempo che lui mi invitò a venire a vive a Tear Lake City per aiutarlo in un suo progetto, la costruzione di un ospedale per aiutare le persone come me, affette da disturbi della personalità. Io accettai, convinto che mi avrebbe fatto bene un po' di sano e onesto lavoro manuale. Però una volta arrivato qui in città, scoprì che non mi sarebbe toccato di impastare malta e mettere su mattoni. Ed mi voleva come suo assistente. Io, un volgarissimo malato di mente, assistente di un astro nascente della psichiatria. Risi, figliolo, risi. Ed però non vedeva. Anzi. Fu così che mi trasferì a Tear Lake, nella soffitta di Villa Sender. Lì cominciavano le mie sedute con Ed, ma queste erano totalmente diverse da quelle che avevo ottenuto prima. Lui aveva cominciato a parlarmi della sua ossessione per San Giuseppe da Copertino, nata dal fatto che egli fosse il protettore degli studenti. Pare che il santo, in vita, fosse riuscito ad ottenere conoscenze scolastiche inspiegabili, forse infuse in lui direttamente da Dio. Oltretutto, tra i suoi innumerevoli miracoli, vi hanno dato quello del volo. Ed credeva fermamente che le due cose fossero collegate e che, giungendo ad un grado più elevato di coscienza, fosse normale aspirare fin anche al volo umano. Io rimanevo ad ascoltarlo senza ribattere. Non avevo la sanità mentale sufficiente per poter giudicare le sue parole, oltre che, ovviamente, rimanevo sfornito fin anche delle basi scientifiche più elementari. Credevo però che quella di Ed fosse un'ossessione, un qualcosa di superfluo alla sua carriera medica. Lui, dopo alcune sedute, mi disse di considerarmi guarito, non perché fosse riuscito a curare i miei disturbi della personalità, bensì perché questi non erano una malattia. Lui li chiamava la tua marcia in più, come se parlasse di un superpotere. Ed, Wes, o chiunque fosse quel demone che mi sedeva di fronte, mentre raccontava la sua storia, era commosso, umano. Solitamente vedevo il mio ospite trincerato dietro la sua flemme impeccabile, mentre adesso scorgevo della debolezza in lui, forse proprio perché, in quel momento, egli aveva postato la maschera dello psichiatra per indossare quella del suo vero io, Wes, il malato affetto da personalità multipla. Lui continuava a guardare la foto che lo ritraeva insieme ad Edward, seguendo con un dito i contorni del Saiyosef. Era così sentimentale nel farlo che quasi credetti di non vedere più in lui quel mostro che mi aveva tagliato un braccio. Ma quella sensazione, così fuori luogo, fortunatamente, sbocciò nella mia mente soltanto per marcire quasi subito. «A me non è fotte niente di come due malati di mente si siano incontrati e abbiano messo su questo postaccio infernale! Mi hai amputato un braccio, figlio di puttana!» Il mio interlocutore torse gli occhi dalla foto e mi guardò interrogativo. Forse dentro di sé davvero non capiva perché l'odiasse a quel modo. Poi riprese a parlare. «Postaccio infernale?» È pensare che Ed quando mi portò per la prima volta sul terreno dove oggi sorge l'ospedale disse che qui era un bel posticino. Ideale per ospitare il suo progetto di vita. I Sanders erano benestanti. Il padre di Ed era un costruttore e gli aveva lasciato un'ottima base economica oltre che innumerevoli amicizie su cui contare. L'ospedale venne su come un fungo dopo una notte di pioggia. Ed eccoci qui. febbraio 1990 io e lui immortalati all'inaugurazione. Sembrava tutto perfetto ma lo scopo di Edward Cesar Sender non era certo quello di dirigere una clinica psichiatrica anzi vedi figliolo come era stato per il grande santo a cui dedicammo l'ospedale anche Ed aveva ricevuto alcune nozioni direttamente dal creatore. Egli aveva capito come dietro i disturbi della personalità si celasse un potenziale enorme per farti capire meglio immagina il cervello di un malato come un computer con due dischi rigidi uno in uso con il sistema operativo l'altro inutile pieno di ciarpano Ed aveva capito cosa si dovesse fare con il secondo disco rigido non andava distrutto come facevano i suoi colleghi ma riprogrammato come farlo? Beh lui con me usò l'ipnosi durante le nostre sedute non faceva altro che entrare nell'aria guasta di me per poi riprogrammarmi secondo le sue competenze ovviamente non avrebbe potuto inserire in me conoscenze a lui aliene e pertanto con il tempo finì per rendermi come lui con le sue comprensioni con i suoi modi di fare e le stesse passioni e ossessioni a quel punto fatto di me un uomo completamente nuovo non gli rimaneva altro che spegnere la mia personalità primaria ormai obsoleta per lasciare solamente il mio nuovo io quel passo non sembrava riuscirgli dal momento che io continuavo ad avere sbalzi di personalità incontrollati sarei potuto rimanere il suo più grande successo se soltanto il divino non fosse intervenuto direttamente a quel tempo io avevo preso a convivere con una ragazza Francine si trattava di un'ex paziente del San Josef anche lei affetta da disturbi psichici lavoravamo nell'ospedale entrambi lei come cuoca e io come assistente di Ed Francine era un'altra di quelle persone che il mio amico definiva dotate di superpoteri ed era stata sottoposta anche lei al mio stesso trattamento adesso stava bene al punto che avevamo scelto di avere un figlio Malcolm a non star bene invece era la moglie di Ed Megan si era ammalata e ci stava lasciando lentamente Ed assisteva impotente all'inesorabile gioco del destino incapace di usare la sua scienza contro il volere del cielo fu allora che insieme alla disperazione il mio amico venne travolto dall'illuminazione una sera mi convocò nel suo ufficio supplicandomi di comprendere il dolore che avrebbe riversato nella richiesta che stava per farmi mi ricordò che la guarigione di Francine era stato il suo più grande successo forse per via delle caratteristiche mentali della mia compagna allora mi pregò di poter condurre un esperimento su di lei un disperato tentativo di trasferire la coscienza di sua moglie in quella che un tempo era la personalità secondaria di Francine scoppiai a ridere forse non era la reazione più sana quella di sghignazzare in faccia uno squilibrato ma non riusci a fermarmi un classico il matto che cura gli altri matti scusami se ti ho giudicato male fin dal principio signor Wes allora tutto il male che c'è qui a San Josef non viene da te ma da quel pazzo che l'ho affondato qui torna tutto siete davvero una cozzaglia di malati di mente che giocano a fare famiglia Nathan figliolo sei ancora così lontano dalla verità Edward non era un folle e me lo dimostrò quando dopo mesi di impegno riuscì nella sua impresa come aveva fatto con me era riuscito a modificare il carattere di Francine fino a renderlo del tutto simile a quello di Megan a parte le ovvie differenze fisiche le due donne erano diventate come goccia d'acqua avevano gli stessi interessi i medesimi modi di fare e persino una voce piuttosto simile sai una cosa Nathan malgrado io adorassi Ed non credetti mai alla sua balla di voler creare un clone di sua moglie per amore la sua unica passione era trascendere i limiti del corpo umano per avvicinarsi a quello stato di completezza mistico che dovrebbe portare a divenire simile a Dio comunque andavano le cose e dopo solo pochi giorni Megan morì Ed si trovò nuovamente davanti allo stesso dilemma che aveva avuto con me non sapeva come spegnere definitivamente le nostre personalità secondarie Francine ad esempio adesso viveva costantemente in bilico incerta su chi fosse e fin anche sul chi amasse una parte di lei era legata a me e al nostro figlio mentre l'altra sentiva di amare Edward io non ero geloso sapevo come quello stato mentale fosse divenuto inesorabile forse perché anche io dopo il trattamento di Ed avevo provato pulsioni per sua moglie era del tutto normale solo che io avevo saputo fermarmi in tempo Ed invece incominciò una relazione clandestina con la mia compagna la quale dopo un po' di tempo rimase incinta chi fosse il padre tra me e lui però non era possibile capirlo per questo sia io che Ed ci siamo sempre sentiti tutti e due genitori di Clodette solo un esame del DNA potrebbe dirci quale dei nostri veicoli fisici mise incinta sua madre ma sai figliolo non ci importò mai la loro malattia esclamai io sgranando gli occhi allora sono davvero fratelli ecco perché hanno la stessa malattia genetica il mio interlocutore allora scoppiò a ridere forte passandosi una mano in faccia come sei ingenuo Nathan esclamò quando ebbe finito di scarnirmi sì sono fratelli figli della stessa madre se non altro ma non hanno nessuna malattia genetica ma per adesso lascia perdere ci arriveremo comunque dicevo dopo la nascita e la bambina io e Ed ci allontanammo un po' lui era sempre perso dietro al suo progetto di modificare del tutto la personalità di un malato mentre io beh di fatto portavo avanti essa Joseph poi un giorno incontrando la mia compagna mentre usciva dallo studio di Ed fui sorpreso dal non riconoscerla più mi aveva salutato chiamandomi Weasley cosa che non faceva mai e in più mi aveva elargito un largo sorriso di circostanza quello era il modo di fare di Megan ma Francine prima di allora non era mai riuscita a scendere così bene le sue personalità quando chiesi a Ed cosa fosse successo lui mi rispose che aveva finalmente trovato il modo per eliminare del tutto le personalità inutili di un individuo quello di fatto significava aver perso la mia compagna per sempre avrei voluto arrabbiarmi con il mio amico ma la verità era che una parte di me quella basata sul suo comportamento approvava tale scelta Francine era stato il giusto prezzo da pagare per poter ottenere quello che Ed adesso chiamava processo di deframmentazione coppiai nuovamente a ridere era un riso esterico ma mi regalava gioia il poter sghignazzare in faccia a quel bastardo mentre mi raccontava come e quando era riuscito a trasfigurarsi in un folle maniaco Ed Wes o come cazzo pensi di chiamarti tutto qua il tuo grande segreto è che il tuo migliore amico si sbatteva la tua compagna non c'era bisogno di scomodare la psicanalisi e fin anche i santi per accettarlo i dwarstander si scopava Francine e tu oltre che malato di mente sei pure cornuto alla fine mi sa che il bel posticino che intendeva Ed altro non era che il tuo fetido culo e lo ha centrato in pieno l'uomo nel sentire le mie parole velenose parve caricare una sberla nella sua mano destra poi però il braccio si rilassò nuovamente lasciando perdere il suo proposito io ne fui sorpreso giacché credevo seriamente di essermi meritato una sonora legnata curioso che tu mi abbia interrotto proprio adesso per prenderti gioco di me giusto ora che sono pochi soffi di fiato dal farti capire tutto ma io l'ho già capito quando ti sei reso conto che Ed ti aveva soffiato la compagna lo hai ammazzato come un cane ti sei preso tutto quello che era suo bravo genio potrebbe essere stata l'unica cosa sensata che hai fatto in vita tua lo sai risposi io sarcastico quasi fino a divenire caustico sei in errore e non di poco mi rispose allora l'altro con aria seriamente pensierosa tu pensi davvero che io abbia ucciso il mio migliore amico l'uomo che mi aveva guarito dalla malattia il genio che riusciva a impiantare la personalità della gente sana dentro quegli sfortunati che solitamente si chiamano malati non ti ho mentito io non ho ucciso i Dwarf Sender quel macete che hai visto lasciato nel suo petto in un certo senso glielo hai piantato tu e no non ridermi in faccia come facevano i miei vecchi dottori ascoltami io accettai di aver perso Francine era stato un bene superiore e dovevo solamente essere grato a Ed adesso la donna si faceva chiamare semplicemente Meg e poco mi importava se non fosse più la mia compagna perché il velo che separava me ed Ed si andava sempre più assottigliando col passare degli anni ormai mi rendevo conto che di questa dama non rimaneva quasi più nulla io adesso ero I Dwarf Sender con i suoi pregi i suoi difetti e fin anche con le sue ossessioni anche io alla fine mi ero appassionato ai miracoli di San Giuseppe da Copertino e come il mio amico volevo raggiungere le vette più alte dello scibile umano fu per questo che chiesi a Ed di mettermi al corrente del suo processo di deframmentazione quella procedura che ci avrebbe resi simili a Dei non so se sei pronto per venirne a conoscenza West mi rispose da prima Ed si tratta più di religione che non di scienza il mio può divenire un credo inutile dire che non mi convince e che io continuai a stargli addosso sperando di persuaderlo ad aprirsi con me a svelarmi quale fosse il suo segreto intanto i giorni passavano e con essi scorreva anche l'acqua del fiume che da Monte Whedon scende giù confluendo nel lago lacrime quella falda acquifera stava per distruggere Tear Lake ma nessuno poteva ancora saperlo era giugno anche se non ricordo più il giorno esatto Ed mi convocò nel suo studio e io finalmente capì che era giunto per me il momento di scoprire cosa fosse il processo di deframmentazione lui mi mostrò un faldone contenente scritti disegni e formule chimiche e preghiere in latino aveva avuto ragione a dirmi che non si trattava di scienza medica il processo di deframmentazione era davvero qualcosa di mistico secondo le istruzioni di Ed l'anima umana non è troppo differente da quella di Dio infatti egli nel crearla si sarebbe doviziosamente preoccupato di frammentarla ognuno di noi possiede un'anima ma essa non è che l'eco pallido di ciò che dovrebbe essere la sua versione completa per compierla quindi si sarebbe dovuti ricorrere alla pratica che il mio acutissimo amico aveva messo a punto la mia ex compagna Meg era stata sottoposta con successo a questo rituale e difatti da allora aveva definitivamente smesso di essere Francine lei era la prima anima deframmentata che il processo aveste creato io virtualmente sarei stato il secondo adesso sapevo ero finalmente parte della rivoluzione e possedevo tutti i rudimenti per poter aspirare a divenire un'anima deframmentata ma ci sono cose che ho ancora taciuto nel mio racconto come ad esempio l'odio che Thomas Sander provava per la sua nuova madre e il disgusto che nutriva per suo padre lui era sempre stato un ragazzo difficile ma dopo la morte di Megan era fino anche peggioreato da tempo teneva d'occhio Edward e disprezzava il suo lavoro al punto di essersi convinto a porre lui stesso fine a tutto quanto Nathan Dio non sempre sussurra nelle orecchie degli umani a volte grida quel giorno la potenza del suo verbo fece vibrare Monte Whedon e giù dalla falda acquifera uno smottamento distrusse gran parte del centro abitato mentre tutti fuggivano in preda al panico io e Ed rimanemmo attoniti lì nel suo studio intenti a provare a comprendere cosa stesse accadendo provammo ad affacciarci dalla grande vetrata ma un cespuglio di rose ci impediva di vedere al di là della strada maestra poi ci voltammo e io non feci neppure in tempo a capire cosa stava succedendo sentii solamente il rumore sordo del macete che si infilzava nel petto di Edward Tom come se posseduto da una forza malefica era entrato nello studio con l'intento di uccidere suo padre Edward si affrosciò tra le mie braccia e morì prima ancora che io potessi pensare a chiamare i soccorsi Tom invece si voltò verso di me dopo aver afferrato l'attizzatorio dal camino era logico che sapendo degli esperimenti di Ed lui volesse eliminarmi insieme a suo padre ma mentre Ed era stato colto di sorpresa io ero in guardia pronto a difendermi lo disarmai quasi subito con un calcio per poi avventarmi contro di lui nel tentativo di placarlo non volevo fargli del male giacché dopo aver letto gli scritti del mio amico adesso sapevo quanto lui fosse importante per il piano finale il ragazzo però forte della sua giovane età riuscì a sfuggirmi scappando veloce da una finestra io allora decisi di inseguirlo era fondamentale che Thomas Sander non rovinasse tutto c'era bisogno di lui del suo retaggio per continuare il nostro progetto ricorsi dietro tutta la cittadina era in suo buglio volta da una densa nube di polvere dovuto al crollo di Monte Whedon ma il caso volle che quel giorno Tom indossasse una felpa dal colore vistoso mi voltai un po' intorno e infine lo vidi che correva in direzione del lago lo seguì ma lui scaltamente se ne accorse quasi subito accelerando il passo una volta raggiunto lo specchio d'acqua si introdusse su per la passarella della diga probabilmente convinto che se fosse riuscito a raggiungere l'altra sponda mi avrebbe seminato dentro il bosco io continuava stabile alle costole malgrado la polvere dello smottamento si stesse facendo sempre più fit intorno a noi si udivano grida e lontananza e sirene dei pompieri ma nessuno ci guardava eravamo soli io e lui poi improvvisamente il ragazzo si fermò eravamo quasi a metà della passarella sulla diga e solo quando gli fu a non più di 10 metri di distanza riuscire a capire cosa fosse successo lo smottamento di monte Whedon aveva causato delle crepe nella diga facendo persino crullare un pezzo di pavimentazione tra Tom e l'altra sponda della passarella c'erano più di 5 metri di vuoto era finita lo avevo preso bottene via West sarò felice solo quando ti vedrò chiuso in un manicomio come paziente e non come adesso mi credò lui vedendomi arrivare Tom tu non capisci c'è qualcosa di molto più grande di noi nel progetto di tuo padre provavo a calmarlo ma lui non mi dava detta poi lo vidi avvolgere il braccio intorno a un cavo metallico che penzolava da un treliccio la sua idea era indubbiamente di calarsi fin dentro al lago per proseguire la fuga a nuoto io mi avvicinai per provare a fermarlo ma in quel momento il caliccio pericolante a cui era agganciato il cavo si staccò per metà dal basamento Tom allora cadde nel vuoto per diversi metri prima che il cavo tornando a tendersi con il contraccolpo gli strappasse via di netto il braccio con il quale si era assicurato vidi il ragazzo cadeva nelle acque del lago e scomparire poi dentro una chiazza di sangue mentre il suo braccio sinistro penzolava ancora macabramente legato al cavo metallico io trasalì istintivamente guardai in direzione del mio moncherino e mi resi conto che per quanto totalmente inaccettabili i vaneggiamenti di questa dama avevano trovato riscontro nella mia amputazione io stesso in fondo avevo più volte pensato che i miei continui incidenti al braccio sinistro fossero una sorta di pagamento arcano da volgere ai custodi della verità no io non ero Thomas Sander ma tutti e due avevamo subito la perdita di un arto per colpa di questa dama il mio fu un gesto infantile lo ammetto ma non riuscì a trattenermi dallo sputare dritto in faccia al mio ospite lui non si scompose anzi estrasse un fazzoletto dal taschino e dopo essersi ripulito dalla mia saliva che gli colava finalmente mi sorriso e rassegnato come se si rendesse conto che quello sputo se lo era meritato fino all'ultima goccia non so che responsabilità hai tu nella morte di Tom penso che almeno di questo sei innocente gli risposi io guardandolo schifato ma rimane il fatto che qui nella tua casa accogliente rapisci la gente o come hai fatto con me con l'inganno o come ho fatto quel mentecatto di Deneb con Esther vedi Nathan il mio racconto non è ancora finito ti spiegherò tutto te l'ho promesso dopo quanto accaduto a Tom io decisi che era tempo di riportare sul nostro piano esistenziale almeno il mio amico Edward così corsi a Villa Sander e con il suo corpo ancora caldo sul pavimento compì il processo di defragmentazione così come era descritto nei suoi appunti quando ebbe finito mi resi conto che aveva funzionato e ero riuscito a riportare in vita Edward Sizer Sander dentro il mio corpo ed ecco che comincia così la storia della casa accogliente presi il mio posto in famiglia e quando evacuavano Tyr Lake io mi trasferì con l'Overson Joseph che intanto era stato sgomberato la vecchia signora Sander però a causa dei suoi problemi di memoria pregressi non ha mai assimilato per bene cosa fosse successo continuando a distorcere la realtà in modi inverosimili lei non ha mai creduto fino in fondo che io sia davvero lei cosa che invece è certa ovviamente risposi io ridendo estericamente come potresti mai non esserlo tu hai fatto il tuo bravo rituale e dimmi un po' in cosa consiste la scoperta epocale fatta dal tuo amico Ed una preghiera a San Giuseppe da copertino un cocktail di farmaci dai illuminami genio sì bisogna recitare alcune preghiere vero ma c'è dell'altro la massima esternazione di un essere vivente dopo la sua morte è per forza di cose il suo corpo anche lo stesso Cristo lo disse ai suoi discepoli durante l'ultima cena offrì loro la sua carne e il suo sangue ma loro travisarono Ed invece lo aveva capito aveva capito come l'unico modo per ritornare ad essere le grandi anime native che eravamo agli albori del tempo sia quello di incamerare dentro di noi i nostri simili per questo quando tornai a Villa Sander strappai il cuore di Ed dal suo petto per mangiarlo ancora caldo per mangiarlo per mangiarlo per mangiarlo per mangiarlo per mangiarlo per mangiarlo per mangiarlo